MTB Gran Fondo, in collaborazione con Amici sportivi appassionati delle ruote grasse, un saluto da Carlo Rosa e bentrovati a questo nuovo appuntamento con MTB Gran Fondo. Immagini che vi arrivano da Torreglia, siamo in provincia di Padova nel parco regionale dei Colli Euganei per raccontarvi oggi la Gran Fondo della Spaccapria. Il borgo più antico di Torreglia è l'attuale Torreglia Alta Sorta intorno alla chiesa di San Sabino. All'inizio del secolo scorso sorse invece la nuova Torreglia, nella zona più pianeggiante. Sotto il dominio della Repubblica di Venezia vennero edificate anche sontuose ville nel territorio come Villa dei Vescovi, una delle più belle ed eleganti ville di epoca rinascimentale di tutto il territorio padovano. In piazza del mercato a Torreglia è allestita la logistica, la zona di partenza ed arrivo della decima edizione della Gran Fondo Spaccapria. Organizza il Team Bike Extreme con l'infaticabile Asia Randetti. Atleti giunti un po' da tutta Italia per questo importante appuntamento con la MTB nel parco regionale dei Colli Euganei. Alessandro Riezzo che vediamo in queste immagini è oggi il nostro inviato in gara. Corre nella categoria Elite Master e attraverso le immagini che ci arriveranno in diretta dalla sua MTB potremo vedere i tratti più spettacolari della Gran Fondo Spaccapria. Un evento che richiama ogni anno sui Colli Euganei tantissimi appassionati della MTB e soprattutto tanti top team con i migliori rappresentanti italiani e non solo delle lunghe distanze. Gli atleti stanno entrando nelle griglie di partenza, il primo start sarà quello dedicato al percorso Marathon. Un tracciato inedito di 63 chilometri e 2300 metri di dislivello interamente disegnato nel parco regionale dei Colli Euganei. Per la gara femminile pronta Deborah Piana del Team Cingolani, questo è Nicolò Zoccarato. Gli atleti Olympia Factory Team con Andrea Rigettini, Davide Foccoli, Marzio Deo. Ma do subito la parola alla griglia di partenza. Abbiamo un bellissimo colpo d'occhio, mille partecipanti, il modo migliore per fruire del nostro parco, per viverlo sempre e naturalmente in pieno rispetto a quelle che sono le nostre esigenze di rispetto dei nostri habitat e del nostro patrimonio naturalistico. Alexei, ci si riprova oggi qui sui Colli Euganei? Ciao a tutti, sì, io provo sempre, però vedremo il risultato. Sì, oggi il livello è alto e cercheremo di far bene, di tenere la testa della corsa. Sì, è la gara di casa, dobbiamo fare bene, siamo qui, ci proviamo con voglia. Il vincitore della scorsa edizione oggi si battaglierà qui sui Colli. Buongiorno a tutti, sì dai, sono contento di essere qua, cercherò di fare del mio meglio, il massimo e auguro in bocca a Luca a tutti. E manca veramente poco alle ore 9.30, scatta lo start della decima edizione della Gran Fondo Spaccapria. Parte la prima griglia dedicata al percorso Marathon. Primissimi chilometri su asfalto, si esce da Piazza Mercato per dirigersi verso la prima salita di giornata. Parte intanto la seconda griglia, sempre del Marathon, alle 10.00 invece è prevista la partenza del percorso Classic. Percorso Classic che misura 42 chilometri per 1.400 metri di dislivello. E la testa della corsa è già in salita, la prima salita di giornata che conduce all'eremo del Monte Rua. E queste sono le prime immagini che ci arrivano in diretta dalla mountain bike di Alessandro Riezzo del Team Bike Extreme. Siamo praticamente nella testa della corsa con a fare il ritmo il russo Alexei Medvedev, Mirko Tabacchi. Prima parte di ascesa tra i tornanti del Monte Rua su fondo asfaltato, poi si attraversa il cancello che porta all'eremo del Monte Rua e si imbocca lo sterrato. E queste sono proprio le immagini che ci arrivano in diretta dalla mountain bike. Siamo alla fine della discesa dal Monte Rua, questa è la chiesetta degli Alpini. Sesto chilometro di gara davanti Daniele Menzi, poi Medvedev, Rigettini, Foccoli, Ramon Vantaggiato, Kevin Fantinato e Mirko Tabacchi. Sono in sette al comando, li seguiamo con Moto 1, siamo in leggera salita verso il Monte Venda. Ora a fare l'andatura il bresciano del team lenicese Daniele Menzi, che ha alle sue spalle il russo del team DMT Alexei Medvedev. Bellissime immagini tra gli alberi, i frutteti, in fiore siamo sul Monte Venda, la vetta più alta del comprensorio dei Colli Euganei con 603 metri di altitudine. Andrea Rigettini, Olympia Factory Team con il compagno di squadra Davide Foccoli e la testa della corsa sta iniziando ora il sentiero Lorenzoni che attraversa tutto il Monte Venda. Daniele Menzi, Alexei Medvedev, Andrea Rigettini, Davide Foccoli, Mirko Tabacchi, Ramon Vantaggiato e in settima posizione Kevin Fantinato. Ad inseguire ad una decina di secondi ci sono Adriano Caratide, Iuri Ragnoli e Samuele Lovato del team Vicentino Mainetti GT Trevisan. Undicesima posizione per un altro Vicentino, si tratta di Nicolo Zoccarato del team LG. Siamo al nono chilometro di gara, ora si attraversano i boschi, i castagnetti del Monte Venda, i famosi maronari secolari del Venda. Dopo il Venda, i biker attraverseranno il Monte Vicino, il Monte Vendevolo e poi discesa fino all'abitato di Fontana Fredda. Continuano intanto i passaggi in questo punto, questo è Sebastiano Mantovani del team Cicliand Race. I biker seguono il sentiero a mezza costa sul Monte Venda, in cima al Monte Venda tra l'altro c'è un altro importante sito da visitare, i ruderi dell'eremo medievale degli Olivetani, da dove si gode una vista panoramica su tutto il territorio del parco. Intanto per la gara femminile, attenzione perché c'è un terzetto al comando con Chiara Burato del team Mente Corpo, seguita da Vittoria Pietro Vito del Bike & Fun e in terza posizione da Deborah Piana del team Cingolani. Seguiamo l'azione anche di Thomas Pasqualotto del team organizzatore Bike Xtreme ed è proprio lui che ha tracciato questo splendido percorso della Gran Fondo Spaccapria. Transita anche Chiara Tassinari del team Essere in quarta posizione e quinto posto per Chiara Mandelli, la vediamo proprio ora all'atleta del team Todesco, ancora per la gara donne, questa nel gruppo è Cristina Nardin del team Todesco in sesta posizione. La giornata oggi è già molto calda, veramente un anticipo d'estate oggi per la decima edizione della Spaccapria e godiamoci intanto questi splendidi paesaggi che il parco regionale dei Colli Uganei offre. E per tanti atleti che oggi non hanno velleità di classifica sarà sicuramente un bel pedalare tra questi splendidi paesaggi che i Colli Uganei offrono. E' ancora in diretta dalla telecamera posta sulla mountain bike, siamo in discesa dal Monte Venda e andiamo subito ad intercettare la testa della corsa. E' passato al comando Ramon vantaggiato del team Velociraptor seguito da Medvedief, Mensi, Foccoli e Mirko Tabacchi. In quinta posizione, mentre hanno perso terreno Kevin Fantinato ed Andrea Righettini. E questo è il passaggio del nostro inviato Alessandro Riezzo. Ventitresimo chilometro di gara, siamo sul Monte Gemola e questa è l'entrata a Villa Beatrice, l'antico eromo di Beata Beatrice d'Este, venerata soprattutto nella cittadina estense. E attenzione perché al comando si è portato Daniele Mensi del team Lenicese, che ha alle sue spalle a una decina di metri, il russo del team DMT Alexei Medvedief, poi Ramon vantaggiato in terza posizione e Mirko Tabacchi del team Lenicese al quarto posto. Più staccato in quinta posizione, Kevin Fantinato del team Life. Il bresciano Iuri Ragnoli del FM Bike Factory occupa la sesta posizione, apre questo gruppo con Samuele Lovato che ha alle sue spalle Adriano Caratide. Ventiquattresimo chilometro di gara, Daniele Mensi ha aperto il gas, Attenzione, è da solo al comando e si sta dirigendo a grande velocità sul Monte Fasolo. Attraverso questa ampia strada bianca, con un piccolo strappo in salita, poi si inoltrerà nei boschi del monte, inseguito ora da Ramon vantaggiato e da Alexei Medvedief in terza posizione, quarto posto per Mirko Tabacchi. La telecamera su Mato 2 è con Ramon vantaggiato e con il russo del team DMT, mentre Daniele Mensi si dirige a gran velocità verso il tratto boscoso del Monte Fasolo, svolta a sinistra. Daniele ha già una decina di secondi di vantaggio su Ramon vantaggiato e su Alexei Medvedief. Perde leggermente terreno ma mantiene la quarta posizione. Mirko Tabacchi che ha alle sue spalle Kevin Fantinato del Team Life. I single track del Monte Gemola e del Monte Rusta hanno fatto selezione. Questi sono Ragnoli, Lovato e Caratide. Davide Foccoli, Olympia Factory Team. Abbiamo appena passato un'ora di gara, ora si attraversa il lato nord del Monte Fasolo, un sentiero di due chilometri immerso nei boschi. È veramente uno spettacolo, la natura si sta risvegliando dopo l'inverno, i colli ugani sono tutti in fiore, ma Daniele Menzi non ha sicuramente tempo per assaporare queste bellezze naturalistiche, sempre in testa alla Gran Fondo Spaccapria inseguito da Ramon vantaggiato e da Alexei Medvedief con un ritardo di 17 secondi dalla testa della corsa. In quarta posizione, sempre lo specialista del cross country, Mirko Tabacchi che pensate ha corso il cross country di Nalles proprio ieri. Per lui sono 40 i secondi di ritardo dal russo Medvedief ad inseguire sempre il terzetto formato da Yuri Ragnoli, Adriano Caratide e Samuele Lovato. Ottava posizione per Kevin Fantinato del Team Life. Nono posto per Davide Foccoli dell'Olimpia Factory Team in sella alla sua Olimpia F1X. Immagini veramente spettacolari quelle che ci offre oggi la Gran Fondo Spaccapria. Siamo nel parco regionale dei Colli Ugani in provincia di Padova e immagini spettacolari che ci arrivano anche in diretta dalla mountain bike di Alessandro Riezzo categoria Elite Master del Team Bike Xtreme. Siamo sulla ripida discesa fino a Valle San Giorgio. Siamo sul versante sud del comprensorio Euganeo, un versante con vegetazione dal carattere prettamente mediterraneo con prati aridi e ginestre. e dopo la discesa si sale nuovamente per la Scaiara dove intercettiamo proprio la testa della corsa con Daniele Menzi del Team Leinicese sempre al comando. Facciamo partire il cronometro e devono passare 50 secondi per vedere la seconda posizione. è tutto solo Ramon vantaggiato del Team Veloci Raptors e terzo posto per il russo del Team DMT Alexei Medvedev quando sono passati 60 secondi precisi dal transito di Daniele Menzi. Quarta posizione sempre per il cadorino del Team Leinicese si tratta di Mirko Tabacchi a quasi due minuti di ritardo dal russo Alexei Medvedev e attenzione guadagna posizioni Davide Foccoli dell'Olimpia Factory Team dopo una foratura è in testa della corsa e i distacchi tra un biker e l'altro cominciano ad essere molto importanti intanto intercettiamo anche Caratide e l'ovato che hanno raggiunto e superato Yuri Ragnoli mentre transita in ottava posizione Kevin Fantinato che si è lasciato alle spalle anche lui Yuri Ragnoli ed eccolo il bresciano del Team FM Bike Factory in nona posizione quando siamo in cima alla salita delle scagliare chiude la top ten Diego Carnielutti in seguito ora da Armin Dalvai entrambi appartengono alla categoria Master 2 e qui abbiamo un Master 6 Doc si tratta di Marzio Deo del Team Olympia Factory siamo al 34esimo chilometro a metà gara circa dopo qualche centinaio di metri pianeggianti si sale ancora per il Monte Ventolone siamo sopra l'abitato di Arqua Petrarca a Borgo dove ha passato gli ultimi anni della sua vita il poeta Francesco Petrarca Francesco era molto legato ai colli euganei forse perché gli ricordavano molto la Toscana e la sua città natale Arezzo ma portiamoci sul punto più lontano del percorso Marathon il Monte Calbarina siamo al 41esimo chilometro di gara si guarda indietro Daniele Menzi non vede nessuno alle sue spalle e transita da solo al comando pronto ad affrontare un'altra asperità di questa Granfondo Spaccapria il Monte Calbarina e diminuisce leggermente il ritardo di Ramon vantaggiato ora viaggia con 36 secondi di ritardo da Daniele mentre attenzione perché si porta in terza posizione Mirko Tabacchi che registra circa un minuto di ritardo da Ramon vantaggiato in seconda posizione mentre perde terreno il russo Alexei Medvedev vediamo la pedalata un po' più lenta dell'atleta del team DMT si sale ora sul Monte Calbarina per poi scendere e siamo in discesa proprio dal Calbarina con l'atleta del team Bike Xtreme Alessandro Riezzo categoria Master Elite godiamoci queste spettacolari immagini che ci arrivano in diretta dalla sua telecamera ma torniamo al 34esimo chilometro siamo al bivio per il Monte Ventolone attendiamo in questo punto il passaggio della gara femminile intanto passaggio per Luca Crestani del team Bike Xtreme categoria Master 2 e attenzione gara femminile Chiara Burato è passata al comando è da sola al comando della Spaccapria in versione Marathon seguita in seconda posizione dall'atleta del team Bike and Fan Vittoria Pietro Vito e terzo posto prende la borraccia Deborah Piana del team Cingolani Torniamo nuovamente in testa alla corsa dove è sempre solo al comando il bresciano del team leinicese Daniele Menzi siamo sui sette guadi un'altra salita sicuramente iconica del territorio euganeo siamo con la telecamera posta su moto uno seguiamo la pedalata di Daniele Menzi siamo alla fine della salita dei sette guadi guardate anche quanto pubblico ad applaudire i biker oggi sul parco regionale dei Colli Uganei e Daniele Menzi è sempre inseguito in seconda posizione dal giovane atleta del team Veloci Raptors Ramon vantaggiato e terzo posto ancora per lo specialista del cross country si tratta di Mirko Tabacchi del team Lenicese attendiamo anche la quarta posizione e in quarta posizione eccolo c'è il russo del team DMT Alexei Medvedev e guardate che spettacolo queste immagini in quadrature veramente suggestive da da questo punto il tracciato Marathon si interseca con il percorso Granfondo mentre intercettiamo in quinta posizione Kevin Fantinato mentre attenzione perché Yuri Ragnoli del team FM Bike recupera posizioni ora è al sesto posto nuovamente in diretta dalla mountain bike attraversiamo l'abitato di Val San Zibio per portarci verso la penultima salita siamo al cinquantaduesimo chilometro ora ancora in salita verso il Monte Castellazzo siamo a Galzignano Terme attendiamo all'imbocco della salita la testa del percorso Marathon intanto dedichiamo qualche immagine ai tantissimi atleti che hanno voluto invece partecipare sul percorso Gran Fondo un percorso che ricordo misura 46 chilometri per 1400 metri di dislivello sicuramente leggermente più pedalabile del percorso Marathon percorso Marathon con in testa sempre Daniele Menzi del team Leinicese eccolo Daniele si guarda indietro non vede nessuno alle sue spalle facciamo partire il cronometro e attenzione perché devono passare pensate due minuti e quattro secondi per vedere Ramon vantaggiato in seconda posizione e passa un altro minuto per vedere la terza posizione con Mirko Tabacchi del team Leinicese ora si sale ancora e intercettiamo anche la testa del percorso Gran Fondo con al comando Lorena Zocca del team SC Barbieri mantiene la quarta posizione il russo del team DMT Alexei Medvedev per lui poco più di cinque minuti di ritardo da Daniele Menzi Alexei ha alle sue spalle Kevin Fantinato in sesta posizione seguito attenzione da Yuri Ragnoli e dopo la salita si scende attraverso questa spettacolare discesa verso il paese di Galzignano Terme per intraprendere gli ultimi chilometri di gara verso Torreglia e siamo proprio lì con la nostra postazione fissa ad attendere la testa della corsa tra i ciliegi in fiore e attenzione ultimi chilometri su asfalto per Daniele Menzi del team Leinicese che sta entrando proprio in questo istante a Torreglia fa tutto ok alla telecamera si guarda indietro non c'è nessuno alle sue spalle si avvia velocissimo verso Piazza Mercato dove è allestito il traguardo di questa edizione della Spacca Pia anche la figlioletta e la moglie ad attendere Daniele Menzi curva a sinistra ed è braccio al cielo per Daniele Menzi del team Leinicese che va a vincere la decima edizione della Gran Fondo Spacca Pia con il tempo di 2 ore 51 minuti 59 secondi e bissa così il successo dello scorso anno e attenzione in seconda posizione chiude Ramon vantaggiato del team Veloci Raptors e terzo posto per lo specialista del cross country Mirko Tabacchi del team Leinicese Mirko anticipa di qualche secondo Kevin Fantinato mentre chiude in quinta posizione Yuri Ragnoli del team FM Bike e sesto posto per Alexei Medvedief del team DMT continuano continuano a susseguirsi gli arrivi questo è Adriano Caratide del team Leinicese che chiude in settima posizione seguito da Samuele Lovato del team Mainetti e arrivo anche per Lorena Zocca SC Barbieri che vince la categoria femminile sul percorso classic percorso classic vinto da Gianluca Boaretto del racing bike per quanto riguarda la classifica maschile mentre chiude la top 10 del percorso Marathon Marzio Deo dell'Olimpia Factory team siamo alla cerimonia floreale con al terzo posto Mirko Tabacchi al secondo Ramon vantaggiato e il vincitore di questa decima edizione della Spaccapria Daniele Menzi del team Leinicese e ultime fatiche anche per il nostro inviato in gara Alessandro Riezzo che chiude la sua gara in 27esima posizione complimenti veramente all'atleta del bike Xtreme attendiamo anche la gara femminile e la prima a comparire è proprio lei la veronese del team Mente Corpo Chiara Burato ultimi chilometri per Chiara svolta a sinistra e rettilineo d'arrivo per l'atleta del team Mente Corpo braccio al cielo per Chiara Burato che va a vincere la Marathon Spaccapria con il tempo di 3 ore 31 minuti 46 secondi una grande grande prova per l'atleta veronese e attenzione arrivo anche per vittoria Pietro Vito del team Bike & Fun che sale così sul secondo gradino del podio attendiamo anche la terza posizione e terzo posto per la Vicentina del team Cingolani Deborah Piana grande grande prova anche per Deborah ma andiamo subito alla cerimonia dei fiori mentre si taglia il traguardo anche con la figlioletta in braccio terzo posto per Deborah Piana team Cingolani secondo per Vittoria Pietro Vito team Bike & Fun e la vincitrice Chiara Burato del team Mente Corpo andiamo subito a sentire i protagonisti sono molto contenta oggi avevo voglia di rifarmi dall'anno scorso è una gara molto tosta però insomma ci tenevo perché allenandomi qui spesso era quasi la gara di casa ecco sono venuto qua il percorso lo conoscevo da un po' di edizioni fa mi ricordo che mi era piaciuto un sacco e ho voluto giocare le mie carte su questo territorio per me oggi è stato un ottimo secondo posto il percorso l'avevo provato domenica scorsa era più fangoso oggi con il bel sole che c'era si è asciugato per bene però comunque qualche discesa era sempre rimasta viscida e niente dopo due ore circa sono rimasto da solo al secondo posto e ho lottato fino alla fine per portarmi a casa questa bellissima posizione ci tenevo veramente oggi a regalare la prima vittoria al nuovo team che mi sta dando tanta fiducia e quindi dai non posso dire di essere di casa perché sono abito comunque vicino e quindi ho avuto modo di visionare bene il percorso voglio fare i complimenti all'organizzazione perché ha tirato fuori proprio un bel tracciato e molto curato nei dettagli peccato solo che sul percorso gli hanno tolto diverse fettucce magari qualche invidioso o qualcosa e quelli hanno avuto questo disguido però per il resto gli faccio davvero gli complimenti i percanti era fuori proprio una bella gara noi sappiamo di avere messo giù un tracciato meraviglioso segnato perfettamente fino a venerdì sera e nonostante i nostri controlli abbiamo trovato che stamattina quando i bike erano sul percorso mancavano mancavano dei cartelli spiace perché spiace molto ringrazio tutti della partecipazione e arrivederci all'anno prossimo con l'ottimo pasta party preparato dagli alpini si festeggia questa decima edizione della Gran Fondo Spaccapria che vi dà appuntamento al prossimo anno da Torreglia è tutto un saluto da Carlo Rosa la grande mountain bike torna la prossima settimana spiace MTB Gran Fondo, in collaborazione con